Non solo il tiro di Magnanelli, c'è anche un palonetto di Gabilan che il portero ha soffiato nel primo tempo contro la Reggiana, perché noi abbiamo fatto poco la partita questa in attacco, perché l'altra squadra era brava, esperta, tenia due giocatori nel centro campo con un certo spessore, un trequartista che sempre apparecchia. Io non sono d'accordo con il basso punteggio che ha messo Stefano Sensi, Sensi non ha lasciato toccare un ballone al numero 10, Sensi tatticamente è il giocatore più forte della squadra, ha 18 anni, ma questo non è facile vederlo, è il giocatore più forte che abbiamo oggi, secondo me la squadra San Marino, guarda cosa sto dicendo, uno dei 18 anni, è il giocatore con più prospettiva, e lo dico oggi davanti alla camera, questo è il giocatore, sarà un giocatore importante in Italia. Del calcio italiano, perché è un talento naturale, questo è Iniesta, io mi ricordo di Iniesta con 16 anni, De Ciavi con 16 anni, questo è il più forte. E quindi insomma, addirittura, addirittura Sensi meglio alla sua età di Iniesta e di Xero. Bravo.